autore salvatore costa scultore poeta artista il sito che mi hanno aggiunto e il salvatore costa su tik tok 406 poi il nonno di tik tok 5 e poi il nonno di tik tok 10 e potete guardarla in tutti questi siti allora autore sempre salvatore costa scultore poeta artista o caffè si tenevano brutto vizi assai ma brutto 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 proprio assai mamma da credere e quando era bello quello brutto vizi io tradivo sempre mia moglie a un certo punto mia moglie se ne accorse e indovinate che ha fatto indovinate che ha fatto mi ha tagliato la testa e io sono rimasto senza testa e voi che cosa avete fatto e voi che cosa avete fatto io gli ho scritto o caffè o caffè e vota una tazza e caffè e come mi sentessero a mattina appena era per l'occhio e vieni la tazza e caffè l'occhio salvatore e sono andato a risposta ma bella e buona una mattina a rapendo l'occhio non vengo più la regina perché è puntuale sempre come ogni mattina mi curava sempre come una bullicina ma che la mattina rendo pensiero la regina ma no non sono perché una regina ma signorina come tutti i mattina servevo signorina ma da mattina ma ti affaccava ma questo io comodino che ti ha mandato una carogna e destino ma che bella posta mi tradivo come non fu resta mia famiglia e io ti avevo la vita mia e perché questa infamità ha capito a giudicare la tazza la tazza